Prossima alla partenza per Sanremo, dove vestirà il ruolo 501 inviata alla prova del cuoco al festival, Annino Amoroni frigge. Cosa? I cardi. D'altronde è tempo di cardi e di cardi ripieni e fritti. Ingredienti 1 mazzo di cardi, 12 filetti di acciuga sott'olio, 150 g formaggio primo sale e pasta e la 250 g farina 0, 15 g lievito di birra, 2 l olio di semi per friggere, sale e procedimento puliamo i cardi li tagliamo a tocchetti e li priviamo dei filamenti esterni. Li immergiamo subito in acqua fredda e limone. Passiamo al bianchetto. In una pentola mettiamo abbondante acqua fredda, un cucchiaio di farina 00, un cucchiaio d'olio, una spruzzata di succo di limone ed il sale. Mescoliamo per bene ed immergiamo i cardi. Portiamo a bollore e facciamo cuocere per 10-12 minuti, ovvero finché sono teneri. A questo punto, scogliamo i cardi cotti e li impastelliamo. Sul cardo bollito, mettiamo un tocchetto di formaggio primo sale ed un'acciuga sott'olio. Copriamo con un altro cardo ed immergiamo nella pastella. Immergiamo in olio a temperatura e, quando sono dorati, facciamo sgocciolare su carta assorbente. Saliamo prima di servire.